ciao amici e amiche continuiamo l'avventura ok proviamo andare a parlare col fabbro questi qua servono per il giardino per il giardino giallo bianco e rosso ancora una nuova tecnologia per quello ma dobbiamo allora se non mi ricordo male dovrebbe essere da queste parti qua adesso non abbiamo nulla perché abbiamo spaccato tutto allora è lui il fabbro ok grazie guarda qui vediamo se secondo lui va bene non ce l'ho la forte Oh, 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 oh è morto? Abbiamo fatto l'incidente col mulo. Ah, ecco la birra dove era, sì vabbè adesso ve la facciamo la birra, vai tranquillo. Ok, quindi prendiamo il corpo, lui vuole la birra? Ok, dov'è il... dove la chiedi? E dall'altra parte allora, aspetta di qua, sembra che c'era un... Ok. Ah, perché forse non ha la pala. Eh, dai. Eh, la pala non... Ok, ho finito l'energia raga. Non... Potrei dormire ma non... Allora, sì, quale notte 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 not... Ok. Ma non ce l'ho, non ho nulla! è incredibile perché non ci dà nulla sono fiori bianchi senza cosa non abbiamo qualcosa in collina allora tutto dove finire di fare questa tomba senza pala ok 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 è un fungo comestibile magari possiamo anche mangiare ora non ti pariamo una tomba ok 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 non c'è qualche roba ok 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 basta non c'è più niente allora lui mi chiedeva di ok 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 non c'è più niente ok 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 a qui non lo capito come funziona a qui non lo capito come funziona Ah 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 Albero lor Ah 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 Ma dai Ah 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 Cioè ogni cosa sono tre tre Ah 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 C'è praticamente ogni lavuna. Anche se ho dei funghi, credo, forse dovrei vedere se ho i funghi, magari se mi ripuccino. Aspita! 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 Vediamo se... Aspita! Aspita! Ma cucino che qua, il bastone! Il problema è che non ho niente da cucinare. Aspita! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Una specie di diga che ti fai palustre. Ancora una palla. Diciamo che è un pelino a... Ma il giardino non si può fare nulla. Ma lui mi ha chiesto in realtà qualcosa. Un crematorio non c'è ancora nulla. Ma materiali per terra non ce n'è? Ok, lì è rotto. Qua non si può fare nulla. Allora, allora, vediamo un attimo. Devo portare la birra a lui. Ma non ho niente da barattare. Perché non c'è nessuna missione che mi ha dato... Che realmente mi ha dato qualcosa da barattare. Perché tutti vogliono qualcosa, no? Anche qui. Cucina, carburante. Sì, capì. Però... Credo cosa... Un po' fatica a capire... Che cosa dovrei creare. Sì, dove sono andato su prima, mi sa? Sto sempre su dalle stesse parti. Forse non è di qua come... Sì, no, no, è proprio qua. Allora, devo dormire, dai. Riposati. Riposati, dolce amico. Non so che cos'era la roba rossa, eh. Forse a mangiare. Il problema è che... Comincerò a mangiare io. Non ho da mangiare. È un problema un po' grandino, sinceramente. È un problema da poco, eh. Allora. Non ho ora. Oh, grandissimo. Eminenza. Quello là voleva la birra. Ma qui non ho... Mi dicevo c'era qualcosa sulla collina per sbligare qualcosa, ma io non lo vedo. Ma questo è per il miele. Queste per i miele ci stanno. Vedi, prendiamo il miele. Questo è un altro come me. Ho messo meglio, però. Devo rubare le risorse a due di notte, mentre dormo. Mappa gigantesca. Mappa gigantesca. Mappa gigantesca. Lava a po' terminare. La pasta. Allora, tu vuoi... In carro. Le uscerò. Almeno... No, no, davvero la più pallida idea di come riuscire a fare cose qui. Ho, 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 ho! C'è sto via tanto, va bene. No, no! No! No, no! No, no! 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 Ho capito cosa deve fare qua qua qua! Andare in città, fare una... ...sessione... sono arrivati alla fine del mondo ma c'è una mappa scusami tecnologie oh oh caspita ferro e e e e e e Ok. l'agricoltura ok forgia eh beh la forgia non è che fa proprio schifo eh legna data, lavorazione della pietra, estrazione una canna da pesca i la faccia la faccia Grazie a tutti. 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 tutti. a 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 tutti. allora. non possiamo fare niente. perché non ho nulla da dargli. una roba assurda. Allora questo vale la pena l'inchiostro ok e non posso entrare o grazie a lui non posso darlo al mercante perfetto Oh e 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 ok ok semplicità di sepoltura scouti ok 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 quanti ok perché bisogna dai è l'unica cosa che posso darti a me a me serve questa io non so davvero amici amiche come non so proprio come andare avanti non riesco a trovare nulla cioè io ti devo dare una cosa tu me ne dai un'altra e questo ci sta però non avendo nulla da dargli perché non vogliono legno non vogliono niente il faro qua ci vuole la carne da pesca vediamo se recuperiamo qualcosa da quello del faro poi c'è un commerciante mi sembra un giro allora niente voleva colorare ci sono alberi di adesso adesso che devo fare la missione del miele non c'è un miele neanche a pagare è questo qua è questo qua non andare dentro nessuno cacchia ora era qui fino a un secondo fa ora c'è un'altra ci sono che lascia ci sono i allora non ho solo un punto morto spero che qualcuno di voi che mi sta guardando il video mi dia una mano dall'avanti perché io vado a prendere sicuramente l'altro video il salvataggio che ho fatto sicuramente perché come non sono perso adesso il crevetto l'ho fatto anche l'altra volta e li ho fermato qui un po' tutto questo è il giorno ora Sì, sì, sì. ok non vi scuola bene i chiodi oh caspita bene me ne potevo mangiare bene non non vi scuola non 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 e cose che interessano loro per poter avere il baratto, effettivamente quello che mi serve da barattare con e scambiare per le missioni, mi raccomando di iscrivervi al mio canale qua su YouTube, lascio un like in descrizione per i social, ma la cosa importante è qua su YouTube che diciamo a crescere col canale, quindi grazie per la vostra iscrizione e ci vediamo al prossimo video, miti su mitica, sperando di capire come andare avanti con questo gioco, che è veramente figo, ma è un po' un casotto, ciao! Grazie